ciao e benvenuto in questo nuovo video allora in questo video parliamo delle access list in questo caso è stese come vedi da questo computer qui che è il pc 5 sta pingando il pc 7 eccolo qua noi vogliamo noi vogliamo bloccare il ping da questo computer a questo computer qui pc 7 vediamo un attimo come si fa con l'access list stese a un attimo prima un attimo di fondamentale allora le access list standard si applicano sempre più vicino possibile alla destinazione quindi se io volessi bloccare internet per esempio allora lo applicherei a questa interfaccia qui cioè se io voglio applicare delle regole che bloccano per esempio il traffico da internet verso l'interno del mio router le applicherei qui e metterei un access list standard se voglio applicare invece come in questo caso bloccare il ping da questo computer a questo computer l'access list ma messa più possibili vicino alla sorgente quindi vicino all'interfaccia e 02 adesso vediamo come si fa allora configuration terminal access list 100 deny ICMP host 182 168 30.2 host 182 168 30.2 ecco invio poi chiaramente va applicata andiamo sotto all'interfaccia interface e 0 barra 2 ip access group 100 in perché il traffico è da questo computer verso il router quindi è in entrata verso il router vediamo cosa è successo ed eccolo qua quello che è successo pacchetto filtrato il ping l'abbiamo bloccato ora un altro esempio di come si può scrivere un access list standard o estesa in modo diverso perché se io faccio show run e ne vedo così vedi eccola qua access list 100 è soltanto un numero oppure anche volendo posso fare due show access list e vedi qui qui mi dice ip access list 100 e poi ciò la mia ovviamente access list ora in questo caso ce ne è una ce la ricordiamo ma se ce ne fosse 20 30 50 100 o più dopo il giorno dopo ce ne ricordiamo più o comunque anche quelli che vengono dopo di noi non se ne ricorrenderebbero più allora come possiamo fare possiamo fare che la scriviamo con un nome dove vogliamo adesso bloccare questo pc per internet quindi che non sia più in grado di aprire i siti internet quelli in HTTPS allora possiamo fare in questo modo qui ip access list 100 lo chiamiamo HTTPS block extended mi sono dimenticato bisogna dargli extended extended 100 vedi l'abitudine gli diamo il nome quindi HTTP block deny TCP host 192 168 30.2 qui cosa abbiamo destination any equal 443 però prima controlliamo che funzioni prima di applicarla sotto l'interfaccia allora guardiamo un attimo proviamo un po ci vuole un pochino di tempo ad aprire google google.com dovrebbe funzionare ancora l'access list non l'abbiamo applicata ok vediamo un attimo certo che però è dentro ma aprire facebook ok dns perchè dns io ho google chiaramente 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 non posso pingare più google perchè lui ha bloccato il ping e soprattutto sotto all'access list c'è scritto deny any any dopo vi faccio vedere però mi da problemi con dns che non li dovrei avere infatti non li dovrei avere infatti non ce l'ho ok e mi apre google perfetto adesso sovran andiamo ad applicare sotto alla porta E02 la nostra nuova access list ok eccola qui extended HTTP block ok ok configuration terminal interface E02 IP access group nome in guardiamo un po' se funziona mentre mentre che lui carica show access list e guardiamo non andrà perchè è già bello e matchato 16 l'ha già incontrata questa blocca e quando te le vedi vedi scrivi access show access list vedi che questa è HTTPS block quando le vediamo quando le vediamo quando le vediamo da show brand vedi IP access group questo è quello dell'interfaccia e poi vedi qua IP extended HTTPS block quindi si capisce meglio che per esempio di queste qui che sono quelle del NAT oppure questa qui che era quella vecchia 100 occhi tocchi ora ti faccio vedere ti faccio vedere questa cosa qui allora quando te vedi qui deny qui ti devi immaginare qui sotto un'altra access list anche se non la vedi che c'è scritto blocca tutto tutto per tutte le destinazioni deny any any perchè è implicita quindi per esempio configuration terminal phs block qui la riprendo poi gli faccio permit tcp any any ok ora molto probabilmente lo farà funzionare perchè perchè è una storia lunga guardiamo un po' se funziona perchè altrimenti se non gli dai così permetti any any tcp any any lui bloccherà il tcp cioè tutto quello che viene dopo di questa access list è bloccato non va più da nessuna parte spero che sia chiaro e questo è quanto riguarda l'access list è molto molto semplice e basta se hai domande lascia un messaggio oppure scrivi sul gruppo telegram e ti ringrazio per guardare questo video al prossimo